Ciao ragazzi e ciao ragazzi, eccoci qua di nuovo oggi con una grande lezione di gambe e battaglio. Allora, ieri avete fatto tutte. Oggi incontriamo un po' di questo circuito con un livello tra gambe e body burpees, body jumping, perché no? Allora, cominciare, non serve niente tra un ritardo fino o un asciugato a casa e il tuo resto è pronto. Pronti? Allora, cominciamo. Warm up, dobbiamo gambe bene, dritte, stesse e arriva in un bilancio. Un bel spettino, scuola di sedoio, titular e titular, titular sul, marinara, alinare l'amore dentro. Gamba destra, dietro, metti suono, maglia avanti e andiamo in alto basso, in età, in età, testa, sinistra. Bene, raffinando le braccia delle stesse, ultima, passo lato, e l'altro bravo, stiamo in ultimo schieno. Pronti, uno, due, tre, quattro, uno, teniamo, su. Cominciamo con un po' di squat, che è un po' di largis, che sarà proprio piano, e a fondo sono rimasti, andate piano, perché è solo una, per preparare il nostro, per preparare il stesso processo, un po' di squat, date di solo dieci squat. Piano, dietro, 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 uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. In avanti, in avanti, in avanti, cinque, sei, sette, otto, nove. In avanti, in avanti, in avanti, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Lo ripetiamo di nuovo, lo ripetiamo di nuovo, lo ripetiamo di nuovo, dal squat. Tre, tre, quattro, cinque, sei, sette, sette, otto, nove, dieci. In avanti, in avanti, tre, quattro, cinque, sei, sette, sette, otto, nove, dieci. In avanti, in avanti, in avanti, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. In avanti, in avanti, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. In avanti, in avanti, in avanti, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ora, un po', 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 un po'. E' solo di tre esercizi, semplici, semplici, semplici. Che sarà? Evitiamo di, diciamo di diretti, ok? E' solo di tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 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 cinque, sei, sette, 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 cinque, 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 sette, e solo 12 secondi di calcio per le proprietà e ora parliamo pronti? iniziamo con il nostro jump jack 30 secondi pronti via e adesso pronti? lo squat via con di squat via con di 30 secondi via iniziamo in atto bando sentite bene finute e la comanda la forma è molto più facilissima e adesso prendete il palpino e andiamo a fare il crunch semplice via ossidiamo il palpino e ci accorgiamo più giusti ce l'abbiamo sempre pronti? secondo uno su ragazzi pronti? per il nostro squat degli atomi respiro e spalla dietro squat dietro squat to SI 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 riposa il gametino spieghiamo ai nostri tracci spieghiamo spieghiamo aggravando Stri . e spieghiamo in buen e il nostro secondo round finito terzo il ballante per lo stesso terzo via su legna stiamo già verso sposa squat and arms pronti via Grazie a tutti. Pronti, schia. 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 per il piede, il cadone, schiena grande, ovviamente, è il nostro primo preferito di vita, un po' di rest, affamino a comando, e poi passiamo, un po' di sedici, allora, anche noi stessi con il circuito, qui sono? il suo jam, ok, gli affondi davanti, non mangiare niente di qua, e questi sono alternanti, stiamo attuando, e finire con il mando del quadro, allora, per chi ha risultato fare il mando del quadro, ora, vi do un'opzione, prevedete la sedia, avanti da voi, e potete fare naturalmente, piano, piano, questa nozione, non andate, pronti, e andiamo al nostro secondo circuito, 30 secondi, ora, e 10 secondi, pronti, scocciate, mi raccomando, perdete le mani, e non mi portate con le mani, per l'altro, spinta su, e affondi le mani, pronti, via, anche qua, per l'altro, anche qua, per l'altro, schiena, per l'altro, brita, con lo schiena, abitare, e dei due, tre, fermi, stessi bene, andiamo subito. come ho detto la terra è per prendere il gioco sulla serra non stigiamo pronti per seconda via mi raccomando se non mi chica faccio tutto in un po' fermate un po' di pulire se non è tornato dalla parte pronti e continuiamo in un po' di pulire su ragazzi siamo quasi un po' di pulire l'attocchi, potete la vita per la brazza, o la stella nella sua mano? Pronti, via! E' il secondo grande lato. Girando l'ultimo. Via! Come un legge. S'è la pusita sa tegui. Bologi. Fermatevi. Scecchel. Edorma. A fondi la lancja. Pusci. Rompi. Via! Allora, perché non riesci ad andare avanti e ritornare, scusate, mi avevo un video già dall'inizio, vi potete fare già la ferme, dieci, la loro parte è lì, la loro parte è lì, la loro parte è lì, ok? Mano per guardare, groghi, via. E il nostro secondo circuito è lì, guarda, un po' d'acqua, un breve ruolo, e si riguarda qui all'altro terzo circuito. Allora, nel nostro terzo circuito sono, c'è la combinazione dell'esercizio, lanciammo. Ok? Per chi è beginner, potete tranquillamente fare nel secondo circuito, da fermi e siedici a fondi. Per chi è avanzato, per favore, ruolo al posti, lanciammo il più bene possibile. Poi abbiamo i nostri squat, il squat asseduto. Allora, partiamo, prendete, lascio la mano, ho un cappettino, e si parte da seduti. Che sarebbe? Che sarebbe? Squat, su, squat, giù. Seduti, su. Allora, nella posizione dove siete da sempre, vedete, ben sentite a dietro. Allora, quando vi alzate, mentre vi alzate, voi, per questi minuti qua, vi spiegate così forte, che poi meglio, portate la mano, la gamba, e poi l'altra, vedete bene molto. La volta ed è in mezzo, si deve restricchere forte. Parli, peggio in me, il mio esercizio preferito, il burpees. Allora, i pericoli si fanno in due modi, anche in tre. Io vi do le opzioni, quelle delle greener e quelle altre, abbattate. Quello che si fa, è giù. E in, non è attentato, semplicemente si viene giù, una gana dietro, l'altra, in, in, e spira. Ok? Bene, quindi ad avanzarti, si va diretamente, o i saperi, o agire i pericoli. Lascia una posta. Settiamo nell'acqua di più, cominciamo, alla fine, sarebbe perfetto. Allora, siamo pronti? Andiamo ad avanzare per questo nuovo, l'ultimo giocatore nostro. Pronti? Via! Allora, avanzato. Continuate. Usate, i pericoli, faccio 10 da una parte, ad 10, sull'alto. dieci secondi seguiremo le mani andiamo ai nostri squat da seduti pronti via la volda 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 andiamo due pronti via la volda la volda la volda la volda e si vogliono lavoriamo di più la volda la volda la volda la volda la volda via la volda la volda la volda la volda e via la volda poi la volda la volda la volda via la volda la volda via la volda che avanzate direttamente quando avanzate vienes a il piede su su andiamo avanti avanti e in seconda lada stiamo un bel respiro e partiamo il piede non è necessario non è necessario non è necessario e si Grazie. combinazione del squat frutti? riappumando qua non serve la velocità ma solo e le suote e andiamo la mano sulle e iniziamo a guardare le lie guardate con il rip 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 Arrivederci. vi ho letto un bello spiva un po' e andiamo ai nostri leggeri allora oggi visto che non abbiamo dei prezzi io vi suggerisco salite con una potiletta d'acqua con voi stessi cammini sull'aperte andiamo a usare il nostro potiletta d'acqua semplice semplice allora i nostri tre esercizi seguono una combinazione sarata biciplos lentiche molto più calde con controllo del movimento e ne vediamo tre pieci arrabbiamo ok poi con la nostra potiletta abri dieci un due due tre tirati poi andiamo a side flex legger gomito sotto la spalla e andiamo a side flex così e passaremo tre secondi dalla destra e dalla destra e siete pronti abriamo a terra e stiamo a passare e stiamo a passare al final pronti dici bici 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 agra pronti via via due tre quattro cinque sei te otto nove nove e dieci pronti al nostro right extension po divieta pronti e dati dieci un due tre dva cinque sete 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 otto nove dieci andiamo a side legger venti segura tranquilli via e respiro calma calma Allora, per chi non riesce a stare tutta bella e bonita, c'è bisogno di un caldo. Ficca il caldo, per chi non riesce a stare tutta bella. E torniamo al nostro primo esercizio. Quattro, maggiore, dieci, andiamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, sette. Quattro, nove, tre, dieci, sette, 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 sette. Pronti? Via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, 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 sette. Andiamo al cuore. Pronti? Viva. Su. Il nostro penultimo esercizio. Continuiamo l'altra parte. Un po' di stretti. Cambio. Pronti? Via. Placca. Placca. 2. Placca. Placca. e basta rimane il 5-7 e andiamo al nostro stretching andate con la faccia in giù mani le braccia vicino al posto allungatevi bene bene venite su e bene dentro rinfermati tutte le volte ora il repieto venite su piano e andatevi spigate bene andatevi e andatevi e andatevi e andatevi piano e andatevi e andatevi e andatevi e conciano qui dentro mano destra e la parte della sinistra dovete sentire un punto agguramento la parte destra e il peggio tirate sulla sinistra gamba, gamba sinistra e rinconciate andiamo qui ragazzi per oggi finito, grazie mille e alla prossima, ciao